Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Per gli studenti del Nolfi e del Raffaello il presidente Paolini replica gli attacchi i controlli fatti in anticipo alla sicurezza degli alunni viene prima di tutto La scuola non è un'azienda servono competenze, qualità e strutture ed elizie sicure è il messaggio dei vescovi della provincia pesarese in occasione dell'inizio dell'anno scolastico dislivello stradale di 10 cm in zona Trepponti a Fano la segnalazione di un ciclo turista che chiede provvedimenti per quel tratto pericoloso La Darsena Borghese compie 400 anni e si prepara a vivere un programma ricco di iniziative con mostre, concerti e conferenze Sabato torna la Corrifano sulle colline di Gimarra la gara podistica amatoriale sarà dedicata all'atleta scomparso Andrea Borgogen Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia incredibile scoperta nell'ex convento di Santa Maria Nuova a Fano nella porta murata che potrebbe celare i resti umani del beato Antonio da Fano è stata ritrovata una cassa allora partiamo subito dal servizio che ha realizzato Lino Balestra perché oggi pomeriggio ha seguito tutte le operazioni vediamo Siamo in via da Serravalle perché forse quest'oggi verrà svelato uno dei misteri che più ha affascinato il fine estate fanese ovvero sia la presenza più o meno documentata di una mummia qui nella chiesa di Santa Maria Nuova adiacente tra l'altro al cantiere che si tiene in queste settimane per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio l'intercapedine che contiene dovrebbe contenere i resti del padre sono alle mie spalle fra un po' entreremo e vedremo attraverso la video ispezione con i tecnici dell'ASET che già hanno operato vicino a Porta Maggiore che cosa c'è in questa intercapedine Oggi insieme alla sovrintendenza con una video ispezione andremo a vedere se davvero si è conservata ed è stata lì posta questa SA, questa mummia e quindi per mezzo alla video ispezione andremo a controllare Presenti oltre le autorità civili e comunali e della sovrintendenza anche i vertici dei frati provinciali è presente anche il padre Ferdinando Campana che vedete alle mie spalle che ha assistito proprio al momento in cui è stato rotto il diaframma e adesso sentiremo dalle sue parole quali sono le considerazioni alla luce di questa scoperta Adesso vedremo vedremo perché anzi forse è stata l'occasione provvidenziale per rispolverare la memoria di uno che altrimenti sarebbe rimasto nella dimenticanza e questo beato è beato secondo la tradizione francescana non è beato della chiesa è un frate che è morto perché concetto di santità però non è stato mai fatto un processo è quindi una persona illustre dell'ordine francescano che era stato tenuto in chiesa Quella che vedete alle mie spalle è la parete che ci divide da quel diaframma che è stato abbattuto di cui avete visto prima le immagini dove si trovava appunto in posizione orizzontale la cassa di zinco chiusa dove si presume ci siano i resti del frate in questo momento sono da poco passate le 17 i tecnici del comune l'assessore, la sovrintendenza e l'ispettrice delle belle arti insieme ad alcuni padri sono in sagrestia perché si sta decidendo su come procedere per il momento la cassa rimane qui l'apertura con tutte le dovute precauzioni probabilmente verrà effettuata nella giornata di domani e questo è quanto successo appunto nel pomeriggio di oggi ma per sapere tutte le notizie e dettagli dell'ultima ora siamo in collegamento telefonico con l'assessore al governo del territorio Cristian Fanisi buonasera assessore buonasera a tutti dunque quando verrà aperta questa cassa e come procederete? allora, prima di tutto noi non ci aspettavamo di trovare questa cassa ovviamente dal momento che abbiamo individuato la cassa da notizie di archivio storiche si presume che dentro ci sia il corpo più o meno conservato del beato Antonio per l'ordine francescano abbiamo subito avvisato tutte le autorità competenti che sono la magistratura, l'autorità sanitaria e anche le forze dell'ordine affinché insieme si possa decidere quando spostare la cassa e si decide insieme dove portarla e quindi provvederemo i prossimi giorni non è possibile adesso stabilire quando e dove la porteremo in un luogo idoneo quindi aperto e alla presenza dell'autorità provvederemo all'apertura di questa cassa che comunque dovrà essere autorizzata l'apertura anche dalla magistratura quindi è una scoperta importante è una piccola storia che fa grande la storia della città di Fano perché era una storia un po' dimenticata che grazie anche alla passione storica dei nostri concittadini è tornata alla luce e questo va veramente molto piacere perché insomma riportiamo magari in un futuro alla venerazione dei cittadini questo corpo che comunque compone quell'immensa e bellissima storia della città di Fano e queste piccole storie sicuramente ne fanno parte dunque un giallo che non è stato ancora risolto completamente e non è a questo punto sicura l'apertura della cassa domani non è sicura l'apertura della cassa domani però a breve provvederemo ad aprirla anche per dare la possibilità all'impresa di continuare a lavorare e comunque a questo punto togliere la curiosità alle tante persone che si sono appassionate a questa storia grazie all'assessore del comune di Fano Cristian Fanesi ovviamente vi terremo aggiornati su questo caso andiamo avanti con la cronaca prova ad entrare in tribunale a Pesaro con un coltello ma suona l'allarme e viene bloccato protagonista della vicenda un 58enne che è stato fermato dalla guardia giurata l'uomo aveva addosso un coltello lungo 19 centimetri sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso dopo la chiusura del liceo Nolfi di Fano dell'istituto Raffaello di Urbino dichiarati inagibili oggi la provincia di Pesaro e Urbino ha deciso in quali locali verranno collocati gli studenti dal 30 di settembre quando per loro ufficialmente suonerà la prima campanella noi poco fa abbiamo intervistato il presidente della provincia Giuseppe Paolini Allora innanzitutto vorrei esprimere un grande ringraziamento alla dirigente Marcella Tinazzi dirigente provinciale e a tutti i dirigenti delle scuole di Fano che hanno subito capito il problema c'è stata la massima disponibilità e siamo riusciti a trovare delle aule che hanno dato disponibilità di aule dove mettere gli studenti è naturale che gli studenti del Nolfi verranno un po' divisi in aule che ospiteranno partendo dalla Pollonia arrivando fino al Polo 3 verranno distribuiti in queste aule La decisione definitiva o meglio la distribuzione specifica dove potrà essere letta e verificata? Noi abbiamo fatto questo incontro dopodiché saranno i dirigenti che diranno dove andranno alcune classi e dove andranno altre classi Quelli invece del Raffaello dove verranno collocati gli studenti? Quelli del Raffaello verranno collocati in alcune alcuni delle scuole e altri verranno collocati in dei locali che ci sono stati dati da alcuni enti e nei collegi universitari per cui si trova anche lì una collocazione per far iniziare le scuole naturalmente scivoleranno l'apertura di queste due scuole scivolerà la fine di settembre però ho già sentito i dirigenti eccetera che stanno organizzando e faranno dei progetti che porteranno avanti con i ragazzi Invece che cosa risponde a chi sostiene che le verifiche statiche e sismiche sono state eseguite con ritardo? Credo che se uno fa delle affermazioni deve sapere come stanno le cose non sono stati fatti in ritardo non sono stati consegnati in ritardo anzi sono addirittura stati su pressione della provincia consegnati in anticipo e dopodiché quanto abbiamo visto che il Nolfi e il Raffaello avevano problemi di staticità abbiamo preso d'accordo con alcuni dirigenti della provincia la decisione di dire no in queste scuole noi in questi plessi noi non daremo l'autorizzazione ad iniziare le elezioni come provincia abbiamo messo per il Nolfi e per il Raffaello 2 milioni di euro per il Nolfi 2 milioni di euro per il Raffaello come provincia per fare in modo che fossero con il finanziamento le prime ingradatorie che venissero finanziate e questo ci permetterà di avere delle scuole fra un paio d'anni delle scuole moderne nuove antisismiche autosufficienti da un punto di vista energetico la sicurezza dei ragazzi viene prima di tutto questa è stata la mia decisione poi se qualcuno fa polemica la fa ma le polemiche non portano da nessuna parte ci vogliono i fatti devi stare sul pezzo a lavorarci la scuola non è un'azienda educare è un atto d'amore è dare vita e ci vuole tanta pazienza è il messaggio dei trevescovi della provincia di Pesero Urbino Armando Trasarti Piero Coccia e Giovanni Tani in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico il dubbio che la scuola abbia perduto la possibilità di educare si legge nella nota oggi è diffuso nell'opinione pubblica l'informazione dei mass media contribuisce alla scarsa autorevolezza dell'istituzione scolastica ogni volta che ne ritrae l'imponenza e pubblicizza quegli episodi che sembrano sancire l'inefficacia dell'azione della scuola l'educatore per i vescovi deve essere innanzitutto molto competente qualificato e al tempo stesso ricco di umanità capace di stare in mezzo ai giovani con stile pedagogico per promuovere la loro crescita umana e spirituale i giovani proseguono i vescovi oggi hanno bisogno di qualità dell'insegnamento e insieme di valori non solo enunciati ma testimoniati servono qualità budget proporzionati nuove tecnologie didattiche digitali e la sicurezza delle strutture edilizie sulla non facile convivenza di culture diverse l'educazione è poi chiamata in causa proseguono nel messaggio perché le si chiede di offrire un contributo essenziale alla formazione di nuovi cittadini capaci non solo di convivere nella diversità ma di costruire insieme un mondo migliore tra Sarti, Coccia e Tani augurano a tutti di respingere la tentazione di considerare la scuola un'azienda un'impresa per dedicarvi alla cura della costruzione di una comunità nella quale si diffonda la cultura del dialogo dell'incontro del reciproco riconoscimento fra diverse culture promuovendo dentro e fuori la scuola e tutte le collaborazioni possibili e utili a realizzare l'intercultura è morto ieri a 76 anni Don Luigi Ambrogio Rottini abate presidente emerito della congregazione cistercense di San Bernardo in Italia dal 1993 al 2010 aveva guidato la congregazione cui apparteneva a darne notizia fa sapere il comune di San Severino Marche l'abate Don Stefano Zanolini e la comunità del monastero di Santa Caterina Don Rottini aveva festeggiato 56 anni di professione monastica e 48 di sacerdozio i funerali si terranno domani alle 14.30 nel monastero di Santa Caterina e adesso vi raccontiamo la disavventura che ha vissuto un ciclo turista che per pochissimo non è accaduto a terra a causa di un dislivello di circa 10 cm tra il manto asfaltato e il piano stradale quello originario siamo nella strada comunale Petruccia a Tre Ponti di Fano sentite ciclo turisti della domenica o anche solo ciclisti che utilizzano le due ruote come mezzo di trasporto attenzione tra le tante insiede dell'asfalto che si possono incontrare per le strade di Fano ce n'è una a pochi passi dalla sede della cooperativa Tre Ponti che è più subdola di altre perché non è così evidente ma se ci caschi dentro forse non puoi più rimediare siamo in strada comunale Petruccia subito dopo la famigerata rotonda di via Tommaso Campanella in uscita dalla superstrada Fano Sud la disavventura è toccata da un giovane ciclo turista che ieri per un puro miracolo di equilibrismo o forse altro non è andato gambe all'aria sullo breccino al lato della carreggiata con disastrose conseguenze per lui e la sua bicicletta purtroppo per me come anche oggi voi potete notare essendo qui con me c'è abbastanza vento evento che mi è costato caro perché praticamente sono andato un attimo fuori strada grazie a Dio è andato tutto bene non mi sono fatto nulla il dislivello dal manto dell'asfalto al piano stradale originario è veramente alto ben oltre i 10 centimetri troppo per una bici da corsa ma anche per una bici normale figuriamoci poi se in sella c'è un anziano senza contare poi che anche un motorino di ritorno dal centro commerciale magari che rientra in città per via di una sbandata anche per via del traffico pesante presente in zona un'uscita di strada sarebbe veramente disastrosa esattamente nel senso che io ho perso un attimo il controllo della linea retta ho cercato di frenare quando mi sono reso conto che ormai non avrei fatto più in tempo mi sono attaccato al cielo diciamo nel senso che ho cercato di mantenere il baricentro bello diritto in modo tale da non perdere l'equilibrio e cercare in qualche modo di fermarmi la striscia ancora c'è quindi è anche abbastanza spessa quindi il margine è molto stretto quindi sì diciamo che in questi casi bisogna stare sulla destra sulla riga o anche qua chiaro che se stai qui e purtroppo fai un errore anche di poco quello che succede è quello che è successo a me sono 15 centimetri basta vedere la mia scarpa che sta praticamente bella bella sotto piano strada in questo punto nonostante l'asfaltatura eseguita per la Tireno Adriatico la rotonda è in condizioni davvero disastrose e se a questo si somma la criticità di questo punto indicatoci dal segnalatore forse non sarebbe male per chi di dovere porci rimedio quanto prima però ecco pensavo che fosse importante renderlo noto per tutti che c'è questo problema e chi può se può fare qualcosa per sistemarlo il premier Giuseppe Conte sarà nelle Marche domani a Casse Sant'Angelo sul Nera nel Maceratese per incontrare alle ore 16 il comitato istituzionale Sisma nella sala polivalente amici del Trentino presso l'area SAE cittadina saranno presenti tra gli altri anche il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli il presidente della regione Marche Ceriscioli i presidenti delle province e vari sindaci della zona del cratere tra cui Mauro Falcucci primo cittadino di Castel Sant'Angelo sul Nera è una grande occasione per condividere una strategia comune sulla ricostruzione ha commentato Ceriscioli apprezziamo aggiunto la scelta del presidente Conte di venire nelle Marche fra i primi atti del nuovo governo per incontrare le popolazioni terremotate i sindaci e appunto la regione sarà l'occasione ha concluso Ceriscioli per condividere insieme quella strategia comune sulla ricostruzione che è mancata fino ad oggi Taglio del nastro domenica scorsa nel comune di Colli al Metauro per una nuova struttura a disposizione della collettività pochi passi da quella che dovrà diventare la nuova sede del neonato comune è stato inaugurato un nuovo oratorio alla presenza di circa 400 cittadini e del vescovo Armando Trasarti abbiamo domenica inaugurato il nuovo oratorio a Calcinelli una struttura molto bella funzionale e anche importante perché è una struttura molto ampia al di là di quello che si può pensare che è stata realizzata dalla curia di Fano che appunto dopo un anno di lavori domenica ha visto la sua conclusione è una partecipazione diciamo così di popolo a queste inaugurazioni ci saranno state 4-500 persone sicuramente hanno riempito tutta quanta la via di fronte perché evidentemente è una iniziativa molto sentita nella frazione di Calcinelli di Colli al Metauro a me sta molto a cuore questa cosa per più motivi intanto perché è un luogo di socializzazione di incontro di dialogo di pace nella quale in tanti modi si potrà anche contribuire diciamo così a tante attività in futuro si è sistemato uno spazio che era un'area più o meno incolta al centro di Calcinelli oltretutto proprio di fianco alla delegazione comunale dove dovrà divenire la sede del nuovo comune di Colli al Metauro da qui ai prossimi anni e una soddisfazione anche personale è stata la prima variante che io ho portato avanti da sindaco di Colli al Metauro perché il progetto lo si pensava da parte del nostro vescovo e della Curia lo si pensava già da tempo infatti avevano già acquisito l'area gli anni dietro eccetera però c'era poi un problema di distanze dall'estate eccetera per poter diciamo portare avanti l'opera si è dovuto a divenire ad una variante ed è una cosa che ho fatto con piacere anche con qualche difficoltà perché poi sai le burocrazie in questi casi si sprecano mi fa piacere vedere che uno dei primi atti amministrativi che come nuova amministrazione di Colli al Metauro abbiamo portato avanti si è nel breve periodo realizzata e con grande entusiasmo e soddisfazione da parte di chi ne fruirà da parte della cittadinanza e da parte della Curia del Vescovo che ci ha anche ringraziati ha stilato un bilancio delle attività svolte in questa estate il compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona che opera per le Marche L'Umbria e l'Abruzzo il quale ha operato all'interno delle stazioni sui treni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori oltre 2600 sono state le pattuglie impiegate quasi 400 a bordo treno sono stati scortati più di 800 convogli ferroviari con una media di oltre 9 treni al giorno e sono stati predisposti 123 servizi anti-borseggio in abiti civili grazie a tali controlli sono stati arrestati e indagati in stato di libertà rispettivamente 3 e 56 persone sono state elevate 29 contravvenzioni per infrazioni al regolamento ferroviario e al codice della strada dal 1 giugno al 1 settembre scorso la Polfer ha identificato e controllato circa 16.300 persone nonché rintracciato 13 minori è proposto 3 persone per provvedimenti di polizia come il DASPO urbano e l'avviso orale cambiamo argomento la Darsena borghese compie 400 anni e si prepara a vivere un programma davvero ricco di iniziative vederla vederla ai giorni nostri nella sua conformazione originale con il bacino ad ellisse e le passeggiate laterali con l'imponente spettacolo dell'edificio con i colonnati alti e imponenti e la terrazza nella sua forma originaria che ti accoglie arrivando dal mare sarebbe stato uno spettacolo di immensa bellezza ma per i 400 anni della Darsena borghese dobbiamo accontentarci del seppur bellissimo diorama realizzato per l'occasione in esposizione nei locali che ospitano l'Anmi come pure le riproduzioni dei disegni originali 1619-2019 400 anni di storia per uno dei monumenti più cari ai fanesi e tra i più ammirati da turisti e viaggiatori grazie alla riqualificazione operata per la terrazza dal comune ma anche e soprattutto agli sforzi economici dell'associazione marinai d'Italia che è qui alla sua sede che grazie alla sensibilità di soci e privati con la cospicua somma di 45 mila euro ha dato nuovo lustro a questo luogo che in passato non ha visto bei momenti dentro vedrete appunto la storia la storia di questo di questo porto nel tempo negli anni 600 e 700 domenica inaugureremo questa mostra in cui verrà presentato un libro troverete dei manichini con dei vestiti del 600 dei quadri riproduzioni del 600 speriamo che ecco possa piacere questa cosa e speriamo che i fanesi vengano a visitarla grazie ad un libro che ne ripercorre i fasti scritto dall'appassionato di storia William Ciavaglia che attraverso la consultazione di testi manoscritti della Federiciana e dell'archivio di Stato ci svela diversi aspetti un po' dimenticati ed alcuni anche sconosciuti di questo luogo ricco di fascino e storia oltre al libro anche una serie di appuntamenti musicali e conferenze a tema fino al 5 ottobre ed una mostra permanente visitabile ad orari stabiliti festeggeranno degnamente questo traguardo temporale per la Darsena 400 anni fa 1619 Papa Borghese diciamo termina i lavori che lui aveva aveva annunciato e quindi oggi insomma celebrare i 400 anni grazie all'organizzazione dell'AMMI che crea tutta una serie di attività eventi quindi un plauso anche da parte della nostra amministrazione che teniamo anche a queste celebrazioni come un plauso glielo facciamo anche per diciamo le attività che nel corso dell'anno realizzano in questa Darsena che portano gente turisti e attività che la rendono veramente vive e partecipe accendendo i riflettori su un momento di storia veramente importante della città sabato sabato sulle colline di Gimarra torna la Corrifano questa 24esima edizione della gara podistica amatoriale sarà dedicata ad Andrea Borgogeli il quarantenne fanese tragicamente scomparso lo scorso mese di giugno stanno per partire si è mossa la macchina Marco sta per abbassare il braccio partiti sono in tanti bravi cosisti braccia al cielo perché sei una grandissima campione correre fa bene al fisico correre nel nome della solidarietà fa bene anche al cuore torna sabato 14 settembre sulle colline di Gimarra la Corrifano manifestazione che di fatto chiude l'intensa stagione sportiva targata CSI Pesaro Urbino e che da 24 anni coinvolge centinaia di sportivi oltre 400 solo l'anno scorso l'edizione 2019 della manifestazione sarà dedicata alla memoria di Andrea Borgogeli il quarantenne fanese tragicamente scomparso lo scorso giugno che oltre ad essere un amante dell'atletica con alle spalle partecipazioni anche alla Colle Marathon e alla stessa Corrifano era un donatore Avis proprio per la sua passione per il podismo e per il suo aiutare gli altri attraverso la donazione di sangue CSI e Avis hanno deciso di premiare con un trofeo a lui dedicato il primo atleta uomo donatore e la prima atleta donna donatrice che taglieranno il traguardo dopo gli 8,4 km di saliscendi il bel tempo previsto e l'innalzamento delle temperature lasciano presagire ad un pomeriggio di festa al quale potrà partecipare anche chi non se la sente di correre in quanto nell'ambito dell'evento la cui quota di partecipazione per i maggiorenni e di 5 euro è prevista anche la quarta edizione della camminata amatoriale un ulteriore momento di solidarietà visto che parte dell'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza il ritrovo per tutte le categorie è in via cena a Gimarra vicino al campo sportivo dove alle 16 inizieranno le corse per le categorie under e alle 17 la gara ufficiale il cui colore prevalente quest'anno sarà il rosso rosso come le magliette che indosseranno gli amici di Andrea Borgoggelli che da quel maledetto 11 giugno si sono mobilitati per mettere in piedi i progetti che siano d'aiuto alla sua famiglia e tengano vivo il ricordo di Borgo ecco dunque spiegato perché correre fa bene al fisico ma correre la Corrifano quest'anno più che mai fa bene anche al cuore e con lo spettacolo pirotecnico questa sera si concluderà la tre giorni della fiera di San Nicola pesaro tanti visitatori che grazie anche al bel tempo e alle temperature gradevoli dovrebbero in serata raggiungere il dato complessivo di ben 230.000 per questa edizione è stato realizzato un piano sicurezza molto impegnativo per la società organizzatrice con circa 50 addetti impegnati quotidianamente con la dislocazione di zavorre in cemento transenne e l'impianto di diffusione sonora che ha impegnato non solo pesaro parcheggi ma anche la protezione civile la polizia municipale l'associazione carabinieri di Vallefoglia il CB club Mattei di Fano la Croce Rossa e il centro operativo comunale hanno funzionato bene anche i due bus a navetta che collegano il parcheggio San Decenzio con i luoghi della fiera lo spettacolo si svolgerà alle 23 in zona Porto vi ricordo invece che lunedì sera alle ore 21 subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia ritorna il programma di Fano TV Primo Cittadino ad aprire la nuova stagione sarà il sindaco di Fano Massimo Seri potrete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250 fra poco invece trasmetteremo uno speciale dedicato alle attività e ai vari corsi che vengono organizzati all'Accademia dello Spettacolo di Fano io vi ringrazio per la vostra attenzione l'informazione torna domani mattina come sempre in diretta alle ore 7 con la nostra segna stampa arrivederci di Fano